Ecco, la scorsa settimana abbiamo assistito al rinvio di una serie di modifiche a una legge, ma al di là della questione di sé per sé, questo episodio, che cosa rappresenta? Ma io sto girando un po' la provincia in queste settimane raccontando cosa è stato fatto in questi primi 12 mesi di consiglio regionale, di nuova legislatura, e soprattutto negli ultimi tre si sta assistendo ad una grossissima difficoltà da parte della maggioranza di portare avanti le proprie proposte, i propri progetti di legge, tant'è che o non vengono discussi o, come nel caso di settimana scorsa, vengono rimandati in commissione, quindi allo stadio precedente all'approvazione. E questo perché nei sei gruppi consigliari che compongono la maggioranza di Roberto Maroni, quindi Forza Italia, Nuova Centrodestra, Lega Nord, Lista Maroni, Partito Pensionati e Fratelli d'Italia, ci sono idee diverse, ci sono tante idee diverse che fanno sì che il lavoro, il percorso delle leggi sia davvero accidentato. Io faccio un esempio per capirci a livello di numeri. C'è un regolamento in Regione Lombardia, nel Consiglio, che prevede che ogni cinque progetti di legge discussi in aula, uno debba provenire dall'opposizione, come tutela della possibilità, anche per noi, in questo caso per il Partito Democratico, di proporre e di portare in discussione dei temi. In 12 mesi siamo riusciti a portare in discussione, in consiglio, un solo progetto di legge sul tema dei contratti di solidarietà per le aziende, perché da parte della maggioranza non ne vengono portati altri e quindi non si raggiunge mai quel numero minimo necessario per poter discutere le nostre proposte. Abbiamo depositato due progetti di legge sul consumo di suolo e sulla riforma sanitaria, che sono aspetti centrali dell'attività normativa regionale che non possono essere discussi perché dall'altra parte c'è un immobilismo che sta ingessando veramente i lavori. Quindi, al di là della gestione e dell'ordinaria amministrazione che sta portando avanti i maroni, non si riesce a dare impulso all'attività di leggi, nel fare le leggi, fare delle buone leggi, che è poi il motivo principale per il quale siamo lì.